4 anni a confronto, ritirato Ocean Eleven, 1 Ortolano Jet, 2 Olaf OM, 3 Ok Dei Ronchi, 5 Obama di Cielo, 6 One Love, seconda linea 7 Osiride Griff, 8 Orchidea DWS. Favori in chiusura per Ok Dei Ronchi numero 3, Ido Baldi in sediolo, One Love l'alternativa numero 6 Roberto Vecchione, macchina che accelera. One Love lanciato all'esterno di tutti, con Ok Dei Ronchi che lo contiene insieme a Ortolano Jet, parte invece discosto Osiride Griff, una terziglia all'attacco della piegata, con Ortolano Jet leader nei confronti di Ok Dei Ronchi che è il primo a presentarsi, Ok Dei Ronchi ottiene il pass dopo 200 metri svelti in 14.3, spende comunque per superare l'avversario e One Love ora all'esterno, supera Olaf OM e si proietta su Ok Dei Ronchi che ovviamente a questo punto fa valere la posizione 28.9 per i primi 400, all'esterno c'è anche Orchidea DWS che ha preso direttamente la scia di One Love e intanto se ne vanno i 600 iniziali, completati in 44.7, c'è stata una decelerazione in curva 15.8, ha preso la via del largo anche Osiride Griff, siamo ora al passaggio davanti alle tribune con Ok Dei Ronchi in vantaggio, all'esterno si impegna One Love, in seconda posizione rimane Ortolano Jet con al lato Orchidea DWS, una terza pariglia Olaf OM e Osiride Griff, lasciano in coda Obama di cielo, intanto 59.7 il passaggio agli 800 con Ok Dei Ronchi leader su Ortolano Jet in coppia con One Love, l'errore, lo scarto di One Love che si toglie di mezzo a 600 dalla conclusione dopo un chilometro in uno 14.8 e allora Orchidea DWS cerca di portarsi su Ok Dei Ronchi, si trascina Osiride Griff all'accordo a Certo Nano Jet, 400 al palo, il parziale in 15 per Ok Dei Ronchi che riparte, Orchidea DWS comunque rimane lì a contatto Certo Nano Jet, poi Osiride Griff 300 alla conclusione con Orchidea che prova a far sentire la sua pressione a Ok Dei Ronchi, alla corda Certo Nano Jet, poi Osiride completamente dalla piegata, ingresso in retto, Ok Dei Ronchi sostenuto contro Orchidea DWS che a centro pista scatta e nel finale prende il sopravvento su Ok Dei Ronchi, passa, vince nettamente Orchidea DWS, il secondo è per Ok Dei Ronchi, al terzo finisce Osiride Griff, 1.14 secco con 29.2 a chiudere, il successo a sorpresa per Orchidea DWS in seriolo Enrico Bellei che segue One Love fino al chilometro e poi entra in scena per soppiantare ai cento finali Ok Dei Ronchi e andarsene in scioltezza da 1.14. Enrico Bellei al Insulti, Maurizio Pieri al Training per la Scuderia, E allora fra i due litiganti il terzo...